14 anni trascorsi in Africa, immerso tra la gente rurale della Tanzania, alla scoperta di una cultura completamente diversa da quella di provenienza. L'antropologo barlettano Antonio Allegretti torna nella sua città per presentare il libro in cui racconta in maniera analitica la sua esperienza a contatto con le popolazioni della Tanzania che vivono di allevamento pesca ed agricoltura. La vita è molto semplice alla fine perché si dipende dalla terra, si dipende dalla terra, si dipende dagli animali, dal bestiame, dalla pesca. Il libro infatti parte proprio dall'economia rurale, dall'economia basata sulla terra, sul territorio, sulla territorialità appunto e poi si espande per considerare anche come la gente si affronta anche le questioni globali perché alla fine siamo in un modo globale quindi chiunque deve avere a che fare, deve confrontarsi con la globalizzazione, con le questioni globali, col mercato globale eccetera. Quindi appunto il libro è su questo, è sulle pratiche tradizionali, è come la gente diciamo crea dei compromessi a livello giornalmente con il mercato globale, con la globalizzazione. In Tanzania Allegretti ha conosciuto una cultura aperta ed accogliente, un'esperienza di studio e di lavoro che ha cambiato completamente la sua vita. Cambia molto la vita, cambia sia a livello individuale ma cambia, queste nuove esperienze cambiano la vita molto profondamente di una persona perché è una cultura così diversa dove ci sono idee molto diverse sulla felicità, lo sviluppo, cosa significa la famiglia naturalmente. Quindi tutta questa fusione di idee mi ha creato a volte anche una confusione che comunque è positiva nella vita, è positivo affrontare anche delle crisi per esempio nella vita. Quindi mi sento anche arricchito da questa esperienza.